La Corte Internazionale di Giustizia ha rispinto la richiesta dell'Ucraina che lo scorso gennaio aveva presentato all'AIA una denuncia contro la Russia per impedirle di continuare a fornire il proprio supporto ai ribelli nell'est del paese. Ma in un'altra decisione, il più importante organo giuridico dell'ONU obbliga Mosca a rispettare le minoranze in Crimea e a mettere fine alla discriminazione contro i tatari. La Federazione Russa deve astenersi dall'imporre limitazioni alla capacità della comunità dei tatari di Crimea, di conservare le loro istituzioni rappresentative, compreso il Congresso. La Corte chiede inoltre ai russi di assicurare ai tatari la disponibilità dell'istruzione in linguaggio ucraino. La decisione arriva quattro anni dopo l'inizio dei combattimenti tra i ribelli filorussi e Kiev.